Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arapal. Per oggi martedì è ancora correnti umide in quota, una debole circolazione depressionaria sulla Liguria. Mantengono condizioni di variabilità anticiclone, però sul Mediterraneo in espansione graduale a partire dalla giornata di domani. Mercoledì il dettaglio. Oggi martedì 28 dicembre, cielo inizialmente molto nuvoloso, con isolate e deboli piovigini sul centro Levante. Nel pomeriggio nubi medio-alte in transito e parziali schiarite da Ponente. Venti deboli localmente moderate in prevalenza settentrionali, mare in aumento da Ponente da mosso a molto mosso per onda lunga di Libeccio. Temperature massime stazionare in lieve aumento con scarsa escursione termica lungo la costa tra 12 e 14 gradi, nelle zone interne tra 8 e 12 gradi. Domani mercoledì 29 dicembre continua il transito di nuvolosità regolare stratiforme medio-alta, tratti più consistente nelle ore centrali. Venti deboli variabili, mare molto mosso per onda lunga di Libeccio, in calo dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie lungo la costa, intorno 7-8 gradi, nelle zone interne tra 3 e 5 gradi. Massime indeciso aumento su valori ben superiori alla media, lungo la costa tra 15 e 17 gradi, nelle zone interne tra 13 e 16 gradi. Dopodomani, giovedì 30 dicembre, il promotore anticircolonico si consolida, dunque condizioni di stabilità correnti nord-occidentali in quota favoriscono il passaggio di velature specie al mattino, con un deciso innalzamento dello zero termico. Venti deboli variabili, un regime di brezza, mare in calo da mosso a poco mosso a partire da ponente. Temperature in ulteriore aumento su valori ben oltre le medie del periodo. Minime lungo la costa tra 8 e 10 gradi, nelle zone interne tra 4 e 7 gradi. Massime lungo la costa tra 16 e 20 gradi, nelle zone interne tra 17 e 19 gradi. È tutto, seguite i aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!